Ci ho pensato per un po', perché ho detto, beh, devo scrivere di sceneggiatura, di come si fa, di come non si fa, insomma, raccontare un po' di cose, è giusto che me le scrivano, quindi faccio una specie di sceneggiatura della sceneggiatura e poi produco il filmato. Poi mi sono guardato in faccia e ho detto, no, guarda, lascia stare, andiamo direttamente sul filmato, tanto le cose che più o meno devo dire le so, faccio come dire la diretta e vediamo cosa ne salta fuori, uomo coraggioso. Va bene, della serie siamo tutti creatori di contenuti, e quando intendo tutti, proprio tutti, la parte della sceneggiatura è indubbiamente il lato nascosto più impenetrabile di alcuni creatori, di alcuni sceneggiatori, perché a volte veramente non riesci a capire che cosa pensasse o cosa pensava quell'uomo lì quando si è messo a scrivere. È anche vero che le sceneggiature hanno tutte uno schema più o meno simile, nel senso che c'è la creazione del personaggio, ci sono le location, c'è tutta una serie di situazioni che si intrecciano per poi giungere infine, in fondo, a quel finale che a volte può essere la sorpresa. Però per andare sul pratico e per citare un caso dei più illuminati, potremmo cominciare a parlare, per fare un esempio, di un film che ha fatto storia, 2001, Odissea nello spazio. Probabilmente molti di voi lo conoscono e l'hanno visto, magari più volte come l'ho visto io. Chi non l'ha mai visto, probabilmente lì conviene andarlo a vedere, anche se è un film del 1968. E, per farvi un'idea, l'uomo non era ancora sbarcato sulla luna. Eppure nel film, un film di fantascienza, la storia narra degli eventi talmente ben studiati, talmente con una base scientifica, parlo dell'astronavi, della strumentazione, tutto quello che c'è, cioè fate conto che il computer era ancora una cosa così, che veramente diceva impossibile che se lo siano inventati così bene. Ma in realtà dietro c'era uno staff molto preparato a livello scientifico. Kubrick, il produttore, in realtà non scrisse la sceneggiatura da sola, ma la scrisse insieme a un altro sceneggiatore, scrittore, Clark, che era a suoi tempi, in realtà anche oggi, ma insomma era considerato un grande scrittore di fantascienza. E furono ispirati da quello che era il libro di Clark e le Sentinelle, in cui c'erano i famosi monoliti e tutta una serie delle cose. Ci vogliono la bellezza di quattro anni per riuscire a produrre questa sceneggiatura, perché il tema non era poi così facile. Se poi guardate l'insieme del film, c'è la parte finale in cui Kubrick afferma se qualcuno è uscito dal cinema riuscendo a capire il finale, abbiamo sbagliato tutto. Sì, perché è stato volutamente fatto in maniera talmente, come dire, ma non so, non so neanche come rifinirlo, talmente incomprensibile per i più, che la maggior parte della gente è uscita dicendo ma che bel film, fantastico. Non ho capito il finale, io stesso non l'ho capito la prima volta. Mi è ci è voluta, e io sono più lento, un po' di volte. Finché sono giunto poi alla conclusione di averlo capito abbastanza bene, anche se Kubrick alla fine, in una intervista nascosta in un altro video, dichiara che in realtà lui non voleva che ci fosse un significato unico alla fine di questo film, ma che ognuno si poteva fare la sua idea secondo le sue esperienze e secondo di quello che aveva capito. Ma torniamo alla sceneggiatura. La sceneggiatura che scrisse Kubrick insieme a Clark è qualcosa di, non lo so neanche come definirlo, contro determinate regole. Perché se è vero che ha un inizio incredibilmente bello, c'è una parte centrale, quella famosissima del computer Hull 9000, come sapete nella storia il computer a un certo punto comincia a dare numeri e tenterà di uccidere gli astronauti a bordo perché pensa che la missione sua sia più importante e gli esseri umani siano invece, come dire, non indispensabili, anzi pericolosi. Questa parte però non si capisce bene che cosa abbia a che fare con la prima parte in cui appunto scoprono un monolite che è stato lasciato lì da chissà quali extraterrestri e questo viaggio che poi porterà questa astronave a cercare un altro monolite in cui poi ci sarà questo finale incredibile. Quindi lì si capisce bene la mano dei due sceneggiatori, cioè Clark con la sua idea, Kubrick con la sua, questo mix di cose messe insieme, poi va bene, viene e esce fuori il capolavoro. Tra parentesi, il finale del film non era un finale che aveva pensato Kubrick, Kubrick aveva pensato un finale più così sospeso, a cui in un certo punto non si capiva bene come cosa succedeva, questo viaggio andava, restava tutto come un segreto militare in sospeso. A Clark non gli piaceva e quindi un bel giorno gli disse senti un po' Kubrick, facciamo una cosa, perché non ci immaginiamo che incontrano un'entità extraterrestre poi qui e poi... Perfetto, e fu così fatto il finale. Questo racconto ve l'ho fatto per, come dire, farvi rendere conto come una sceneggiatura può essere veramente di tutto. Cioè, anche se, specialmente oggi, si tende sempre a fare delle sceneggiature molto schematiche, quindi con dentro dei valori... Ah, vi faccio un esempio. Quando in una scena c'è uno che è stato colpito, ferito, c'è il suo amico che è lì di fianco e gli dice andrà tutto bene, state sicuri che quello lì morirà. Cioè, è scientifico. Andrà tutto bene è la frase più brutta che ci possa essere dentro in un film, ripetuta milioni di volte. Per non contare l'amico, l'amico del protagonista. È a rischio altissimo. Non si sa quante volte l'amico del protagonista ha fatto una brutta fine. Ma potrei citare X di esempi di questo genere, perché i film, perché in questo caso stiamo parlando di film, sono molto ripetitivi. Un gioco divertente per chi scrive sceneggiature, ma anche per chi guarda semplicemente film, è immaginarsi cosa succederà nella scena successiva o addirittura i dialoghi. Vi assicuro che spesso e volentieri l'azzeccate, perché è veramente frutto di uno schema un po' ripetuto. Poi, anche nella questione di denaro, devi metterci l'ispanico, devi metterci il cinese, devi metterci il nero, insomma ci devi mettere una serie di personaggi che fanno parte di comunità, perché così la comunità è felice, c'è quello che finanzia, tutte queste belle cose qui. Ma come si scrive una sceneggiatura? E qui diventa la parte più interessante. Innanzitutto usiamo un software per fare questo, perché al di là delle war process normali, Final Draft è considerato universalmente il software migliore per fare questo tipo di esercizio, perché scrivere una sceneggiatura è un esercizio complicato. Perché funziona così bene? Perché ci aiuta. Ci permette di definire i personaggi, ci permette di definire la location, ci dà un'idea se è giorno, è notte, insomma ci dà tutta una serie di caratteristiche e di sistemi automatizzati per rendere la nostra sceneggiatura uno standard, quindi scritta in una certa maniera, e che all'occhio di un regista o di un produttore diventi immediatamente, come dire, semplice da capire e farsi un'idea di quello che potrebbe essere il film, oppure, non so io, un documentario o qualsiasi altra cosa. C'è da dire che per poter scrivere una sceneggiatura bene, bisogna partire da avere delle idee molto chiare. Per avere delle idee molto chiare bisogna fare ricerca. Significa che dovremo mettere dentro il nostro database in informazione tutti quegli ingredienti che serviranno poi per produrre la sceneggiatura. A parte questo, oggi fa un caldo terrificante e spero di sopravvivere nonostante l'aria condizionata. Come dicevo, quindi mettiamo che dobbiamo scrivere invece una sceneggiatura che non c'entra niente con un film, ma la vogliamo fare per la nostra azienda, per un prodotto, per un servizio, per qualsiasi cosa ci venga in mente. Anche in questo caso è fondamentale, sempre e comunque, prima scrivere. Scrivere esattamente che cosa si vuole, calcolare i tempi, perché ogni paginetta che andrete a scrivere occuperà del tempo, e finalmente arrivare in fondo e definire se questa sceneggiatura sarà utile a dare impasto al soggetto che andrà a produrla e tutto quello che ne consegue. Spesso e volentieri questo non viene fatto. Ci sono fiorfiori di aziende che o si affidano, e questo va molto bene, però poi magari non sono in grado di capire se quella sceneggiatura è corretta o sbagliata, perché non hanno esperienza, oppure nulla si fa proprio. Cioè, si va più con l'idea, si pensa più o meno, lo vogliamo lungo un tot, quei famosi due minuti, consideriamo che comunque potremmo farla una scena qui e una scena là, poi ti metti a scrivere, senza fare la sceneggiatura, se no, a scrivere più o meno le necessità, e ti accoggi che durerà dieci minuti. La sceneggiatura serve anche molto perché ci permette di risparmiare un sacco di denaro in produzione, perché se abbiamo le idee chiare, non è detto che non andremo a ripetere magari una scena o ne faremo anche due o tre versioni differenti, ma è sicuro che non staremo lì a fare delle prove infinite, o comunque poi trovassi in quel momento in cui le cose non si intrecciano più e non ci capisci più un tubo, perché le vere e le buone sceneggiature hanno degli intrecci pazzeschi. Cioè, tu parti da una parte e dopo un attimo sei da un'altra parte, e poi un'altra, e poi un'altra, e qui entrano tutti i vari personaggi. Ma non sono messi a caso, hanno tutti una loro logica di intreccio. È come avere tanti sentieri che partono tutti più o meno dallo stesso punto, ma poi che si muovono in maniera autonoma e ogni tanto si incrociano. Più questi sentieri sono numerosi e più gli intrecci diventano interessanti man mano che la storia avanza. Una buona storia non deve mai arrivare al punto in cui, per risparmiare, si finisce solo a fare dei dialoghi tra due che pallano in una stanza nell'altra, nell'altro, senza che succeda assolutamente nulla. E questo ormai è un classico di tantissime serie che vediamo sui vari sistemi di distribuzione di contenuti digitali. Cioè, alla fine sono carine, partono bene, e poi immancabilmente ti addormenti. Perché cominciano a parlare. Parlano, parlano, parlano e non si arriva mai al momento giusto. Perché il momento giusto costa. Quindi fare un effetto speciale, fare una scena in cui c'è movimento, o perlomeno fare un qualcosa che abbia quella cosa che ti sveglia dalla poltrona mentre sei abbioccando paurosamente, non è così semplice. Però ci sono degli esempi in cui ci si riesce e dove spesso sono anche produzioni che insomma mettono dentro parecchio denaro. Quindi, per farla breve, nonché non è il mio stile, per farla meno lunga del solito, ricordatevi, una sceneggiatura è fondamentale per qualunque produzione voi vi venite in mente di fare. Che sia il video per, come dire, documentare un nuovo prodotto, un nuovo servizio, qualsiasi cosa. Siete in grado di farla internamente? Difficile. Può essere, ma non è detto. Perché sceneggiatori non ci si inventa. È un qualcosa che si studia, ma anche da soli, ma si studia con la pratica, leggendo tante sceneggiature, oppure, ma che sei fortunato, hai il dono di essere capace di raccontare storie. Perché ho detto dono? Perché esiste anche un dono. Il dono, sapete chi ha il dono della sceneggiatura spontanea? I bambini. I bambini nascono sceneggiatori. Tutti i bambini sono in grado di interpretare personaggi, creare storie e farlo in tempo reale. Non hanno neanche bisogno di star lì a scriversi un pezzo di carta. Perché succede questo? Perché sono in evoluzione. La loro mente ha voglia di esplorare, non si crea dei muri comunicazionali, non si crea dei muri di lavoro o di, non so, marketing in cui dobbiamo raggiungere quel target, eccetera, eccetera, eccetera. Sono liberi e riescono a esprimere dei film incredibili girati nella loro mente e poi, è come dire, condivisi con i loro amici mentre giocano. Purtroppo, crescendo, il 90% delle persone dimentica questa loro capacità. Perché, come dire, il rumore del mondo gli soffoca questa vena. Però c'è una piccola parte di persone a cui invece questo resta. Sono capaci di ragionare e pensare come dei bambini, ma da adulti, che è una cosa differente, e hanno la capacità di inventare, di scrivere nel proprio cervello un'intera sceneggiatura senza neanche mettere giù un pezzo di carta. Perché ce l'hanno nella testa, un po' come Beethoven che faceva le sue sinfonie, le ultime, completamente sordo, eppure le sentiva nel suo cervello. Ha bisogno assolutamente di alcun suono. Bene, termina qui questa puntata caldissima con temperature veramente roventi. Spero che vi sia interessato. Era, come dire, un po' un inizio per parlare dei sceneggiature dal vivo e non per scritto. Alla prossima!